L'ingegner Toso, ha fatto bene Gianluca Toso, che è progettista appunto della... Lui deve dirci su quali principi sarà realizzato il complesso di cui parlava lei prima, di Moncalieri. Prego. Assolutamente, grazie. Ringrazio la famiglia Cogela per l'opportunità, soprattutto per l'opportunità di poter, una delle mie primissime volte, pur essendo io molto giovane, partire con i progetti non quando il cantiere è già operativo, da circa sei mesi. L'impiantistica... Perché il dramma del progettista è questo? No, scusi, scrivi il dramma del progettista perché... Io cerco di difendermi prima di iniziare, ma sostanzialmente funziona purtroppo così. Troppo spesso ci si trova a inserire un impianto, non importa quale esso sia, in un edificio che è già quasi completato. Questo da un lato è la triste realtà o realistica, crea dei grossi problemi, nel senso che tante volte si fa gran fatica a voler migliorare, anche se le premesse ci sarebbero sulla carta, quelli che sono i costi di soprattutto gestione degli edifici stessi. Su questo intervento siamo riusciti, fortunatamente con volontà da entrambe le parti, ad arrivare a uno studio sulla carta, questa volta finalmente preventivo e quindi realizzativo come applicazione successiva, di una serie di interventi impiantistici che vorranno portare questi edifici alla classe A. La classe A è una scelta molto consapevole, ma molto difficile, sappiamo che la regione Piemonte è una regione per latitudine, con un clima non così leggero, insomma, quindi gli impianti che dovranno essere studiati, che sono allo studio, sono impianti sicuramente innovativi, con innovativo non significa nati ieri, innovativi e costosi, ma che applicano semplicemente dei concetti che il professor Filippi ci insegna da anni, tutti conosciamo da decenni, insomma. L'Italia si sta approcciando a questo tipo di sviluppo sostenibile, per fortuna. Questo intervento vedrà che cosa, sostanzialmente, adesso mi richiamo alla presentazione, vedrà una serie di interventi a livello grafico, vediamo quel poco che si riesce a capire dalla slide, che portano tutte, diciamo, quasi tutte le tecnologie sostenibili in un'unica applicazione, ovviamente tutte legate a livello di efficienza, in particolar modo parliamo di impiantistica fotovoltaica per produzione di energia elettrica, collettori solari termici o pannelli solari così noti per produrre acqua calda sanitaria, non solamente finalizzati al sanitario diretto, ma anche all'integrazione di riscaldamento tramite l'utilizzo di pavimenti radianti. Ripeto, tutto questo è gestito con tecnologie non nate ieri, ma tecnologie che sono, di uso e consumo europeo da almeno 15 anni, noi stiamo cercando di entrare a livello italiano e in particolar modo con questo cantiere su un'edilizia sostenibile qui a 10 km di distanza, insomma. Oltre a questo affiancheremo, e mi permetto di fare una battuta all'assessore, che ci agevolerà sicuramente con i suoi potentissimi canali all'utilizzo di pompe di calore ad acqua di falda. Questo è un qualche cosa che a livello regione, a livello provincia e a livello naturalmente Nord Italia ritengo personalmente potrà portare dei grossi benefici, perché la sostenibilità di questi interventi, se realizzati con un minimo di criterio evidentemente, porteranno degli abbattimenti energetici molto forti nella gestione degli edifici. Questi impianti permettono il riscaldamento e il raffrescamento, in particolar modo l'edilizia che nascerà a Moncalieri, mi rifaccio un momento alla presentazione, vedrà una serie di interventi, torno a ripetere, il fotovoltaico per l'energia elettrica, che peraltro alimenterà non soltanto le banali utenze, illuminazione e quant'altro, ma anche il cuore della pompa di calore, che si asserve di energia elettrica e di acqua di falda per le sue alimentazioni energetiche, a essere integrata con un sistema di sanitario a collettori solari. Perché questo è innovativo? Non perché l'abbiamo deciso noi, non perché è un qualche cosa che è nato in questi giorni, ma perché porta ad avere dei consumi e un'energia necessaria per la gestione molto ridotta ai sistemi tradizionali. E' inutile che vi neghi che questi impianti costano di più, questo è ragionevole, insomma tutti lo sappiamo, i conti di cui parlava Gianluca Coggio alla prima sono ai miei realistici, è anche ragionevole pensare però e per fortuna a livello di banale clientela, se così vogliamo parlare e definire, stanno avendo risposta, hanno dei tempi di ritorno abbastanza brevi. Abbastanza brevi significa che nel giro di 4-5 anni al massimo gli extra costi sostenuti per questa impiantistica vengono ripagati. Il cliente comincia a capire, a apprezzare che avere impianti di questo tipo, avere una classe energetica che a livello regionale, provinciale o comunale che sia, a breve e a livello nazionale avrà un pregio anche per la rivalutazione dell'immobile, seppur neonato, è molto importante che cominci a entrare nelle nostre case. La famiglia Coggio ha portato avanti in collaborazione con me questa idea, siamo tutti convinti che questo avrà un successo, non soltanto per la mera vendita delle abitazioni ma anche per poter dimostrare che un intervento realistico in Regione Piemonte a breve ci sarà. Ha sentito Bairati, penso che lei annuiva quando parlava, quindi è entusiasta. Mi prego. No, no, adesso senza scherzare troppo. Mi rivolgo a lei perché lei essendo politico, l'unico politico presente in questa conferenza ci consente di fare dei riferimenti costanti tra i vari mondi, in particolare questo. No, no, ma la questione posta è interessante per due ragioni. Il primo perché pone una questione a me cara che è quella, diciamo, quello che si chiama geotermia, cioè noi stiamo appoggiati su una fonte energetica silenziosa ma importantissima che è la temperatura dell'acqua del sottosuolo. E a Torino, diciamo, Torino e Piemonte hanno una grande peculiarità, cioè è molto poco profonda ed è la temperatura costante, per esempio, a Torino. Quindi noi avremo la potenzialità di estrarre calore d'inverno per riscaldarci, di cedere calore d'estate per raffreddarci praticamente a costo zero. Tenete conto che oggi la geotermia piemontese vale 4 megawatt, cioè semplicemente non esiste. Ed è un importantissimo elemento proprio in integrazione ad altre soluzioni. Quindi tutte le sperimentazioni che riusciamo a muovere sulla geotermia da noi sono assolutamente, come dire, caldeggiate e agevolate. Tenendo conto di una cosa, che tutto ciò di cui noi stiamo discutendo sulle fonti energetiche ha un piccolo difetto, e cioè che noi nel 98% dei casi siamo tributari di altre economie tecnologiche, perché tutti questi aggeggi li andiamo a comprare negli Stati Uniti e in Giappone moltissimi, in Germania una quota significativa nel nord Europa. Quindi insieme a questo ragionamento sacrosanto che stiamo facendo su involucri, impianti, eccetera, c'è lateralmente un ragionamento altrettanto importante, che è quello diciamo più manifatturiero, cioè la possibilità di intercettare una potenziale crescita su beni strumentali che in futuro hanno buonissimi margini di crescita economica. Quindi bene tutto questo, poi c'è una componente che non è lance, ma sono i manifatturieri. In Piemonte abbiamo tutte le competenze per metterci a fare pompe di calore. Oggi le compre di calore che installiamo, le poche che installiamo, sono quasi tutte tedesche per intenderci. Grazie.